Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente d'Intorni Show. Quest'oggi vi parlo di Mo Amir de Vagabond, uno speciale show di stand-up comedy andato in onda nel 2018 e che di fatto è ritornato in oggi in questo periodo proprio perché è appena uscita la serie di Mo Amir. Se volete appunto vedervi un attimo quel video ve lo consiglio comunque caldamente, qui in un certo senso andremo a rivedere molte delle tematiche perché questo show di stand-up comedy racconta proprio la vita di Mo Amir, quindi la vita di un rifugiato palestinese negli Stati Uniti senza documenti e in questo caso specifico come appunta nella serie a Houston. Entrambi sono due prodotti girati sulla sua vita e quindi di conseguenza ci sono moltissime similitudini, però vi consiglio, ve lo dico già adesso, di guardarvi entrambi e vi consiglio di guardare sia questo video sia quello dopo, non tanto per le visualizzazioni che comunque fanno piacere naturalmente, ma ancora di più perché comunque i due prodotti pur essendo molto simili, lo dico già, sono molto diversi. Detto ciò, prima di iniziare a raccontarvi nel dettaglio questo show di stand-up comedy, vi invito come al solito a iscrivervi al canale Telegram di Migliori Entri Intorni per essere sempre aggiornati su quello che esce. Vi basti pensare che io sto registrando questo video quando ho fatto l'articolo, quindi il 17 settembre, non ho idea di quando voi vedrete quello, ma se vi foste iscritti al canale Telegram avreste già visto l'articolo, quindi sareste anche un po' più avanti. Detto ciò, non perdiamo altro tempo, vi ricordo solo che c'è anche Instagram e partiamo subito. Vi dicevo, questa stand-up comedy è già un po' diversa, intanto appunto il formato è completamente differente da quella serie, che appunto era una serie, quindi proprio con una sceneggiatura, quindi con delle location diverse, perché qua è tutto girato appunto nel teatro Paramount di Houston in Texas. E qui appunto Mohamir ci racconta tutta la sua storia, da quando lui di fatto scappa dal Kuwait perché la famiglia è palestinese e ci sono tutte le tematiche con appunto Saddam Hussein che aveva dei problemi con i palestinesi eccetera, e quindi fuggono da lì e arrivano negli Stati Uniti. E ci viene anche raccontato un po' l'impatto con la scuola, perché effettivamente lui essendo palestinese è molto simile a moltissimi messicani, che fra l'altro hanno anche una grande componente araba al proprio interno, anche se molti non lo sanno. Se siete curiosi di vedere l'intrecci fra Sud America appunto e il mondo arabo, vi consiglio di andare a vedere dei video che feci qualche anno fa, dove parlo proprio di questo, anche se non del Messico. Fatto sta che lì quindi assomiglierà più magari a dei messicani, ma si troverà quasi più d'accordo con degli afroamericani, infatti è una delle tematiche che si vedo anche nella serie. Scusate se lo continuo a ripetere, però ripeto, l'ho già fatto prima questo discorso. Fatto sta, quello che qui viene invece approfondito moltissimo, che invece nella serie non c'è quasi per niente, è il suo rapporto con i viaggi. Perché dovete sapere che ovviamente se uno non ha i documenti o non ha il passaporto, per carità, comunque al momento gli Stati Uniti offrono una sorta di permesso per viaggiare, però ecco il permesso per viaggiare non è un passaporto, e quindi se capiti magari in un paese particolarmente rigido, come può essere magari, che ne so, la Germania, vi assicuro che la vita per un rifugiato appunto senza passaporto, che è già normalmente complicata di suo, diventa ancora più complicata. Naturalmente Mo ci racconta tutto con il suo solito sorriso, con la sua solita ironia, però ecco, sono problemi reali, problemi concreti. E un'altra delle cose ad esempio molto belle, questa non c'è assolutamente all'interno della serie, ma spero che la metta non francamente, perché forse la parte che più mi ha commosso, la parte che più mi ha colpito, è quella relativa al suo ritorno in Kuwait. Ad un certo punto Mo Amir infatti ci racconta di come lui sia tornato di fatto in Kuwait da comico per le basi americane. Non so se lo sapete, ma gli americani sono abbastanza fissati su questo, e quindi ogni tot inviano delle celebrità, o dei comici, dei cantanti, a rallegrare le proprie truppe a destra e a manca. E per rallegrare quelli che erano proprio in Kuwait hanno deciso di chiamare lui. E vi dico la verità, lui non l'ha dato molto a vedere, perché comunque il suo mestiere lì era far ridere e non far piangere. Però si percepiva l'emozione che lui ha provato nel fare questo tipo di esperienza, si percepiva che il ritornare nel paese da cui è stato scacciato di fatto tantissimi anni fa, come comico, nella base fra l'altro degli americani è tutto, sia stato qualcosa di molto forte, di molto intenso, veramente molto bello, e fra l'altro anche come lo racconta, ripeto, perché poi c'è anche questo aspetto, cioè la bellezza di questo show è anche della serie, ma in questo caso specifico di questo show è questa. Lui ti fa ridere, perché poi ti fa ridere, cioè magari se ridi sotto i baffi non fai proprio la risata sguaiata, però il sorriso te lo mette sempre, ma raccontandoti cose vere, raccontando dal vivo, raccontando la sua vita privata, raccontando anche le esperienze, le difficoltà che ha passato, quindi pur appunto facendoti ridere tutto il tempo, tu in ogni singolo momento in cui lui racconta una cosa, salvo casi oggettivamente un po' particolari, ma ti rendi conto che in realtà dietro ci sono tutta una serie di emozioni, di avvenimenti che sono capitati, di sensazioni, di anche ingiustizie diverse volte, molto forti, e quindi è proprio bello perché tu percepisci diciamo il lato comico in prima parte, che quindi ti colpisce diciamo in maniera più superficiale, ti fa ridere eccetera, però poi a differenza di tanti altri show che non ti lasciano magari niente, questo alla fine lascia qualcosa che si sedimenta dentro di te, che ti fa iniziare a pensare appunto di come potrebbe essere la tua vita se fossi semplicemente nato in un paese diverso, come potrebbe essere la tua vita appunto se anche magari essendo nato in questo stesso paese eccetera, non avessi documenti, che è una cosa che ripeto, molti di voi e molti di noi non hanno per scontato, tanto che anche stesso in Italia c'è gente che appunto è contro dare la cittadinanza, A, D, A, B, C, D, E, ma non voglio entrare in quel discorso, però sono essenzialmente anche queste tematiche, in questo caso specifico ripeto è una cosa diversa, ma l'avere o meno i documenti del paese in cui tu abiti, nel paese in cui tu nasci, cresce tutto, fa tutta la differenza del mondo, perché in un caso come ad esempio il suo, che poi è ancora più particolare perché la Palestina oggettivamente non è un paese normale, per mille e uno motivi che non sto qui a dire e che chiunque sappia un po' di Palestina conosce benissimo, e quindi ovviamente c'è uno step in più, però quello step appunto del viaggiare, non avere il documento, quindi che devi fare diverse cose, che magari ti prendono, ti interrogano soltanto perché ti chiami Mohammed e perché appunto non hai quel documento, che succedono cose di qua di là, quello c'è ed è molto forte, oltre al fatto che ti racconta anche com'è un po' la vita da underdog, se vogliamo usare un termine americano, perché naturalmente, io prima ve l'ho accennato in breve tempo, però quando lui parla appunto di come viene anche riconosciuto dalle comunità che sono già a Houston e che sono più tipiche fra virgolette di Houston rispetto a un palestinese, come quella messicana, quella afroamericana, c'è tutto anche un racconto di fatto di come si vive in quei luoghi, poi ovviamente ti mette anche il cuore in mano quando ti racconta appunto del rapporto con la madre, che fra l'altro in questo show è proprio lì presente, che ad un certo punto sembra quasi chiamare sul palco, insomma, secondo me, per diciamo fare un confronto con la serie, perché alla fine è quello il suo rivale, diciamo uno, il padre dell'altro, la serie è molto carina perché è proprio una serie, quindi diciamo che tante cose magari sono un po' fittizie, tante cose diciamo sono un po' più studiate per essere appunto uno show vero e proprio, quindi con una trama, con una sceneggiatura eccetera, qui è molto più di impatto, è molto più quasi anche di punch, è una cosa che è molto più spontanea e quindi c'è molto più della sua vita vera e propria e pur, ripeto, non mostrando mai, perché lui poi è sempre col sorriso, non vedrete mai una smorfia, non vedrete mai una lacrima né niente, è sempre col sorriso, però, a ripetere, qui ti racconto delle cose che sono veramente, veramente pesanti in alcuni casi, cioè delle cose che ha un essere umano normale che le vive e non possono lasciare il sorriso, lui ha un'abilità straordinaria proprio nel riportartelo e fare in maniera che qualcosa che sia estremamente privato e anche fortunatamente, almeno per questo caso palestinese, poi per altri è un po' più larga la cosa, però una cosa che è fra virgolette un po' peculiare, che non provano tutti, lui te la riesce a comunicare e la riesce a comunicare anche a un pubblico di massa che magari tutte queste cose non le va a ricercare, magari si va a ricercare semplicemente una commedia, qualcosa con cui ridere, una stand-up comedy carina e lui riesce a portarti quel messaggio veramente forte, veramente intenso e tutto con un sorriso, aprendotelo quindi al mondo intero, aprendo al mondo intero tutte queste sensazioni, tutto quello che ha provato, è veramente bellissimo, io andrò anche a vedere l'altra stand-up comedy che ha fatto sempre Mo Amieri, in maniera tale da completare un po' il cerchio ed essere anche pronto quando uscirà la prossima stagione, però vi dico la verità, sto esplorando sempre di più appunto questo mondo della commedia, perché altro, americana in salsa muslim, e quindi sicuramente vi porterò anche Rami la terza stagione, perché mi piace troppo e quindi io a prescindere me la guarderò, probabilmente penso anche di portarvi qualcosa di Hassan Minhaj, che invece è un altro comico, lui invece è di origine indiana, quindi tematiche diverse ovviamente, perché indiani non sono uguali ad arabi, per essere molto chiaro e schietti, però veramente molto interessanti che ruotano anche intorno a quello, fatemi sapere se vi interessa, a me onestamente interessa e può essere che almeno una volta al mese vi porti qualcosa del genere, detto ciò, la puntata di oggi finisce qui, io vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram, pagina Instagram, eccetera, e noi ci vediamo alla prossima.